Ci sarà anche il vino Mesopotamio di Camarina all'Expo nel Padiglione Italia domenica prossima. E' un vino che secondo vari studiosi e le ricerche del direttore del Museo di Camarina si produceva dal IV secolo a.C. nelle fattorie della località allora chiamata Camarina e che nel I secolo d.C. si beveva da Cartagine a Pompei, dove potrebbe essere stato servito a Plinio nei giorni che precedettero l'eruzione del Vesuvio nel 79. L'iniziativa di archeologia enologica è stata presentata alla Camera di Commercio di Ragusa dal direttore del Museo Giovanni Di Stefano e dal presidente dell'ente camerale Giuseppe Giannone. In base all'evidenza e ai riscontri, secondo Di Stefano, Camarina è la più antica città di tutta la Grecia d'Occidente, dove la filiera della produzione e commercializzazione del vino è attestata. La relazione che il direttore del Museo di Camarina presenterà all'Expo di Milano il 5 luglio sarà accompagnata da 30 immagini del Mesopotamio, vino che viene ritenuto l'antenato del Cerasuolo di Vittoria, una delle doc siciliane di oggi. Il nome antico, Mesopotamio, deriva dal fatto che il vino si produceva nella pianura tra i due fiumi, Lippari e il Dirillo. Saranno mostrati al pubblico documenti epigrafici che testimoniano che questo vino Mesopotamio di Camarina, cioè l'attuale Cerasuolo di Vittoria, era bevuto a Pompei e a Cartagine nel I secolo d.C. Grazie.